Al mattino, quando mi svegliavo, dovevo farmi il segno della croce, perché con quel gesto tracciavo il cammino della mia giornata. Infatti, il segno della croce indica tutte le direzioni, in alto, in basso, a sinistra e a destra. In alto significa andare nella direzione del cielo, in basso guardare le orme del nostro cammino, a sinistra seguire la luce dell'Oriente e a destra per correre la via della verità. Romano Battaglia, sulla riva dei nostri pensieri. Le parole della fede. Una produzione Radio Più Roma.